Passiamo la parola alla coach del team Tonic, che ci presenterà l'esibizione della sua prima concorrente. Buonasera, chi va? Io non ho fatto una cosa! Oh, bene, bene, bene. Il mio team, giustamente, ha quello che mai, e quindi siamo i primi esibili. Ci sappiamo che i primi esibili sono quelli che sono sfigati, e quindi stasera ho detto, ma partiamo con un'esibizione un po' divertente per scaldare il pubblico, ma giustamente, essendo del mio team, parliamo di Rola Magabè. Quindi stasera facciamo un'esibizione divertente sulla morte. E non vi dico altro, qua abbiamo già assistito tutto perfetto, e quindi la musica parte quando la nostra concorrente sul palco hanno le grazie, quindi a voi che ti capis! Ciao, questo è un'esibizione di ordine. Lui è papà vero, e lei è mamma di Liddy, e poi ci sarò io, Catiuscia, la margoglie figlia. Basta, Catiuscia! Nel fatto momento del tuo battesimo, quella è la tua vittima. Vai e colpisci! Arrivata la morte che taglia le teste, Arrivata la notte per l'uomo che muore, Arrivata la pena per l'uomo che resta, Arrivata la mano che sparge il dolore, Arrivata la valgia che l'acera e griglia, Arrivata la volta che suscite i pianti, Arrivata la mano che stanzia le mani. Ehi è rienta la voom organizzazione, Chiava azione, Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Forever